Siamo sul video demenziale e non possiamo che filmare un demente. Fai l'intervista a una persona seria. Allora, quanti siamo oggi? Non lo so, però quest'anno abbiamo deciso di dare l'appelitivo an alcolico. L'appelitivo an alcolico? Perché un anno si è dato alcolico e poi si è toccato andare a cercare la gente in moto. A giro per il monte. Senti, percorso rinnovato. Juve! 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 Una persona pacata. Sì, una persona calma. Una persona da sposare. Da sposare, praticamente. Ecco qui la vista. Senti, sai di che vado? Fammi vedere un po' di aperitivo, vai. Fai lì, pietra! Eh? Oh, fai lì. Vieni, va, vieni, timbro. Timbralo, vai. Timbralo. Vai, timbra. Eccolo lì. Qualcuno fissa per le terre, vi. Cazzo, è successo di tutto mentre filmavo. Madonna, ragazzi. Fammi andare a posare l'aperitivino che è qui. Via, saluta anche te, fai un ciao, vai. Ecco, vai. Aspetta, ti taglio il salame personalizzato. Togliami il salame, vieni. Il salame personalizzato. Te lo taglio personalizzato. Te lo taglio personalizzato. Ma ti l'hai già assaggiato, sto salame? È molto buono. Ah, ecco. Grazie, eccolo qui. È personalizzato. 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 Mia al vale. Buono, buono. Ma un era un gran... Buonissimo. Buono. Quanto è che ha fettato? La doppietta è bambina. Poi, che verità. Non vuoi ciò dipende di Dio, eh? Oh, mangia un po' di olive, crostini. Eh, lo vienete, oh. Come vienete, oh? A trovati, sono venuti gli amici. Adesso va, tutti i femmi a mangiare, eh? Eh, qui vi fermate, eh? Ah, cantate tutte la canzone. Via, cantiamo la canzone, eh? Potremmo cambiare. La domenica si ricanta, dai. Alvaro. Guarda la mia. È un peggio. Esatto, sì, anche a rivederlo. Te sareste la moglie di? Alvaro. Che è il? Mascazzone. Mascazzone, cioè. Ma te lo meni, però. Eh, eh. Gli dai le botte. Se me li escessi. Me li escessi, col bastone mentre dormi nella testa, io dai, capito? Eh, né picchiare e né reclamare. Perché? Perché con lui comanda lui. Sì, comanda lui. Io comando cucina e poi basta. Ma la casa è fatta solo dalla cucina, però. C'è solo la cucina, capite? È come a rabbia quando trovano le cose. Eh, oh, vieni. Tutta la roba fatta. Oggi era su, affettava, eh. Affettava. Nessun mondo. Nessun mondo, vai. Ciao, grazie. Ciao.